Il mondo del ciclismo piange la prematura scomparsa di Patrick Mentil, giovane promessa italiana che aveva partecipato al Giro d'Italia 2021 e si era distinto anche come influencer degli sport estremi sui social network. A soli 22 anni, originario di Castelcucco, provincia di Treviso Mentil, è deceduto in un terribile incidente stradale il 4 gennaio durante una manovra di sorpasso sulla strada regionale Feltrina a Donigo-Pederoba. La sua Audi A3 bianca è impattato contro una Land Rover causando la morte istantanea. Patrick, il suo compleanno sarebbe stato l'8 gennaio, lascia la famiglia composta dal padre Walter, la madre Moira e il fratello maggiore Jacopo. L'ex ciclista professionista legato alla squadra Work Service Marchio Alvega ha corso accanto al compianto Davide Rebellin. Nell'incidente altre tre persone a bordo della Land Rover sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche trasportate d'urgenza all'ospedale di Treviso.